Appoggia il cellulare per aiutare i bimbi a fare la doccia e un uomo glielo ruba. È successo nei giorni scorsi in uno stabilimento balneare a Lido di Fano, dove un turista proveniente dal nord Italia ha sottratto di nascosto il telefono d'ingente valore lasciato per qualche istante dal papà su una pensilina. Accortosi della scomparsa, il malcapitato anche gli turista ha allertato il 113. I poliziotti sono giunti sul posto e grazie all'esame dei filmati delle telecamere di videosorveglianza sono risaliti all'identità del ladro ripreso nell'atto di impossessarsi dell'apparecchio. L'autore del furto è stato rintracciato e denunciato, mentre il telefono rinvenuto all'interno del suo alloggio è stato restituito al legittimo proprietario. Gli agenti poi sono intervenuti in un distributore di carburante nella zona dell'aeroporto. Qui, una fanese intenta fare il rifornimento, ha inserito il bancomat nell'apposita macchina, ha digitato il PIN, dimenticando però di selezionare il numero della pompa di benzina da attivare. Mentre la donna, persistendo nel suo errore, ha cercato in vano di azionarla, uno straniero di origine africana, fermatosi anche egli per fare il rifornimento, si è reso conto della situazione ed ha ben pensato di sfruttarla in suo favore. Ha selezionato l'erogatore nel quale aveva fermato il suo veicolo e ha effettuato il pieno per l'importo di 90 euro che è stato addebitato sul conto della donna. La fanese, che solo in un secondo momento si è resa conto dell'accaduto, ha sporto denuncia. Dopo le indagini del caso e la visione delle immagini delle telecamere, i poliziotti hanno identificato l'autore denunciandolo all'autorità giudiziaria per furto aggravato. Grazie a tutti.